Guarda io sono molto confusa, non ho parole ma insomma non voglio aizzare, capito, e ciulare nel manico però che sciupio, che brutto film che sto vedendo, quante bugie, poi non c'è nessuno meglio di un attore che si accorga quando qualcuno mente. Quindi abbiamo due attori da Oscar in parlamento. Beh insomma, come dire, però questo film lo voglio vedere, perché lo voglio vedere, porca miseria, lo voglio vedere. Ma sapete qual è il titolo? L'hanno detto ampiamente. Il governo del cambiamento, andiamo tutti a vederlo senza popcorn, in silenzio, educati, carini, io nelle prime file così lo vedo bene, che sono mio. Col cinema a 3 euro però. Ciao, ciao.